Grazie per aver accorto l'invito del Comune di Piano di Sorrento e del progetto Le Radici del Futuro del Vici da Coppia Orgine Omanuele di Mita. Saluto l'amministrazione comunale rappresentata dal Vice Sindaco Gianluia Carino, Assessore alla Dottura, dalla Dottoressa Antonella Ernese, Assessore alla Dottore di Istruzione, da Pinella, consigliera alle politiche sociali, dal mio collega Giovanni Ruggero, che è qui in mese di referente e vicepreside del Liceo Coppia Orgine Omanuele di Mita, Tontonino Parmese, presidente della Fondazione Coris, Giannino Durante, papà del ministro Durante, Amici, colleghi e ragazzi, veramente mi ringrazio per aver accorto questo invito. L'invito di oggi è per ricordare, anzi continuare a ricordare, Annalisa Durante attraverso i nostri ragazzi. Però prima di presentare il lavoro che i ragazzi hanno realizzato, voglio cedere la parola al Vice Sindaco Gianni Accadino.